All'interno di questa nuova location, ovvero la metropolitana di Catania, abbiamo portato una mostra dedicata ad Agata, realizzata dagli studenti del corso di grafica e illustrazione, design e comunicazione e fashion design, per omaggiare un evento così importante come la festa di Sant'Agata. In questa difficoltà e criticità, dove molti eventi culturali non sono stati possibili per via della pandemia, abbiamo cercato un'operazione un po' diversa, anomala da quello che si immagina, portare le opere affisse nelle pareti delle stazioni.